Allora, ho preparato questa slide qualche anno fa, all'inizio non la facevo e la miglioro dopo ogni volta. In fondo c'è una cosa di base. Il vostro boss, il vostro capo, che sia gerardicamente superiore o orizzontalmente uguale a voi, sta a voi gestirlo, e non il contrario. Dico sempre ai miei studenti, se tu aspetti che sono io che ti vengo a chiedere come va il tuo progetto, puoi aspettare degli anni. Sei tu che mi devi dire, ho bisogno di te per questo, questo e questo. Allora, il ricercatore deve gestire un po' il suo gestionario, in tutte le università ce ne sono, e lo studente, il postdoc, deve gestire un po' il suo supervisor. E se ne ha due o tre di supervisor, non credete che le cose si dimezzano o si dividono in tre? No, moltiplicano. Le cose sono più complicate, perché non è semplice. Normalmente non è necessario gestire boss, se tutto va bene. Quando le cose vanno bene non è bisogno di gestire nessuno, le cose sono chiare, eccetera. In realtà non sempre tutto è chiaro e tutto è facile, anzi la maggior parte delle volte c'è sempre qualche problema. Soprattutto quando si lasciano molti non detti all'inizio del dottorato o all'inizio del postdoc. Io ho sviluppato delle tecniche, ad esempio, quando ho un nuovo postdoc, uno studente al dottorato che non conosco, io gli offro una piccolissima borsa di sopravvivenza per farlo venire tre o quattro mesi e vedere come funziona nell'AB, eccetera. Prima di dire ci imbarchiamo per quattro o cinque anni. C'è una dipendenza mutuale. Vi dico sempre, un dottorato è come sposarsi. Sai quando incomincia, non sai quando finisce. E normalmente la gente fa un solo dottorato nella vita, ma può sposarsi diverse volte. Quindi è anche più importante di sposarsi. Quindi i direttori di laboratorio efficaci prendono il tempo e gli sforzi per gestire le relazioni con, ho scritto subordinato, ma in realtà non è subordinato, con i membri del team. Questa è una cosa importante. Tuttavia le cose vanno veloci da ambo le parti e ci possono essere periodi in cui i due non si vedono o si comunica solo per email, eccetera. Per esempio io detesto l'email. L'email deve essere meno di due righe. Un'email che incomincia, ciao come va, qui tutto bene. No, 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 no. Deve essere, ho bisogno di questo, punto, e ti rispondo sì, no. Posso fare questo? Sì, no. Altrimenti Skype, FaceTime. Altrimenti ci vediamo. Domani o un altro giorno. Normalmente dico sempre, io devo, io cerco sempre di fare lo sforzo di mettermi nella pelle del mio studente che è solo in una piscina, non vede salvagenti e vede un sacco di pini di squali intorno e dice cazzo dove sono? Però lo studente deve fare lo sforzo di mettersi un po' nel mio panni, nei miei panni e capire che non è perché non uso io il pH-ometro che in realtà me ne frego della sua ricerca. Quindi c'è una relazione di aiuto, cooperazione per fare che il lavoro si faccia efficacemente. E qui entriamo nella management del work team, del gruppo di lavoro. Personalmente ho questi quattro associati di ricerca in quattro campi diversi della scienza, chimica, fisica, biologia e microbiologia. E questi quattro sono veramente non il tampone ma la memoria del laboratorio. Sono loro che vedono gli studenti passare e loro restano. Gli studenti passano, lasciano quaderni di laboratorio, lasciano cd, lasciano risultati, lasciano articoli che saranno trasmessi a quelli che arrivano. Cerco sempre di... Il fatto che ho delle team, in ogni team c'è 7-10 persone, permette di... I due che partono quest'anno, già i due senior, io chiamo piaci di senior e junior. Quando sei piaci di junior hai solo prove da fare. E il piaci di junior finisce il suo juniorato con l'esame predottorale. L'esame dottorale è l'esame che ti dà accesso definitivamente al dottorato. 30 pagine di rapporto e una presentazione di 30 minuti seguita da tre ore di domande da un piccolo team, quasi un giuriditesi. E tu porti e dici ecco quello che voglio fare, ecco qualche piccolo risultato preliminare, ecco come voglio farla, ecco perché è pertinente. E quindi è una piccola difesa. Fatto sta che dopo un anno di dottorato, un anno e mezzo massimo, sai quello che farai negli altri tre anni. E quindi un dottorato più o meno in quattro anni. Dal momento che uno studente, un studente in juniorato deve dedicarsi anima, corpo e tutto il resto proprio a riuscire questo esame. Quindi a capire le cose importanti nel laboratorio, se all'internazionale fa uno stage nell'altro laboratorio, eccetera. Quando è passato il dottorato, dopo qualche mese, un annetto, al terzo anno del dottorato, terzo e quarto anno del dottorato, lo studente diventa senior. E lo studente senior normalmente lavora con studenti junior, con studenti master, ha i suoi propri, sviluppa cose, e appena sono sviluppate, quando il protocollo è conosciuto, poi bisogna rifarlo 30 volte, gli mettiamo vicino uno studente in master, uno studente in junior, che così impara, mentre fa, sarà secondo o terzo autore sull'articolo dello studente senior, così impara a scrivere, così impara a manipolare, così impara a essere critico, e alla fine lui avrà un studente in dottorato senior a un articolo, primo autore, che va nella tesi, e quello in junior ne ha uno in secondo o terzo autore, che non va nella tesi, ma che va nel suo curriculum vitae. Quindi questa è un po' la struttura che ho nel laboratorio. E credo che funziona, la gente apprezza, e gli studenti sono dentro. Vi faccio anche una parentesi. I soldi non sono importanti, ma aiutano. Siamo un lab relativamente non ricco, ma che vive bene, grazie a diverse iniziative che abbiamo fatto, ancora nel planning. Quindi io dico sempre, la mia borsa di studio, 40% dei miei studenti hanno borsa di studio del loro paese, o di fondazioni, o di organismi governativi, eccetera. Ho studenti ad esempio dalla Turchia, dall'Argentina, dal Brasile, anche dall'Italia, che hanno borsa di studio italiane, e che fanno 4-8 mesi all'anno in Canada, eccetera. Questi studenti che hanno la loro borsa, io non do complementi. Paghiamo i viaggi, paghiamo le conferenze, eccetera. Gli altri studenti, ho una politica di borsa minima. Io garantisco a uno studente indottorato 5.000 dollari a sessione, 1.250 dollari al mese. Ci sono più o meno 200 dollari al mese da pagare di tasse, restano 1.000 dollari per vivere. Quebec è una città, si vive bene, si può abitare in 3-4 locali, 3-4 stanze, come dire, le case sono grandi, con 200 dollari si vive, in 3-4 studenti, quindi è simpatico. E questa è la borsa minima. Quando sei junior hai questa borsa, ma quando sei senior non hai limite superiore. Ad ogni articolo in più che pubblichi hai 500 dollari al mese in più di borsa di studio. Così ho studenti che hanno 9 articoli all'ultimo anno di dottorato e che loro prendono 7-8.000 ogni 4 mesi, 2.000 al mese. E perché no? Io sono contento, perché il laboratorio cresce grazie a loro. E che voi lo volete o no? Dovete capirmi. Io sono valutato i brevetti un po', ma soprattutto dagli articoli che pubblichiamo. E quindi più aiutiamo a pubblicare, più funziona. E credo che hanno... Gli studenti apprezzano. E quindi gli studenti... C'è il 5.000 garantiti e poi la maggior parte dei studenti del terzo o quarto anno hanno 6, 6.500, 7.000, eccetera. Ad altri... e poi le conferenze, eccetera. Quindi c'è modo per gestire in armonia. Una volta che avete fatto un dottorato, ma anche durante il dottorato, è superimportante trovare un mentor. Un mentor non è un esempio. Un mentor è qualcuno che è capace di darvi consigli disinteressati. Normalmente non è la vostra fidanzata. Non è vostra madre, non è vostro padre. Ho dovuto non parlare con i miei genitori per due anni perché non capivano perché ingegnere del Politecnico in Milano che potevo guadagnare all'epoca 3 milioni al mese stando a Milano, me ne andavo in Canada e in Francia a fare un dottorato per 1.000 dollari al mese. Mi dicevano, ma sei scemo? Dici, qui puoi avere 3-4 volte di più. Dici, ma a me non sono i soldi che mi interessano. E loro non capivano. Quindi ho dovuto non parlare con i miei genitori per due anni per farli capire che non è quello che volevano, che volevo io. E quindi non sarebbero state dei buoni mentor. Non dico che i vostri genitori siano diversi dai miei. Spero. Quindi magari buon mentor lì. Però in generale no. In generale un mentor è una persona che vi conosce, che vi apprezza, con cui non dormite. questo è importante. E che è capace di dirvi le cose come stanno. E voi siete capaci di prenderle come vengono. E capace di dirvi ti stai sbagliando. No, 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 no. Ti stai sbagliando. E voi potete dire, invece di dire sei proprio uno stronzo. O sai, non è proprio una stronza. Voi dovreste essere capaci di dirgli ascolta, apprezzo quello che mi dice, ci penso, te ne riparlo. E lui è capace di stare zitto per qualche settimana mentre ci pensate. E poi tornate e dite hai ragione, forse mi sbaglio, ma è questo che voglio fare. Ho le spalle abbastanza solide da sbagliarmi. E se mi sbaglio alla fine non sarò polvere. Sarò un po' più basso, ma mi risolleverò. Ma devo passare da questa strada. E questo è interessante. Avere la forza dei propri pensieri. E dare azione ai propri motivazioni. E questa è una cosa importante, credo. il mentor è un advisor che da vi dice com'è la realtà. Perché spesso il nostro cervello si fa dei disegni. E poi fa... Il nostro cervello ha una cosa che non è bella per la nostra vita. E questa è una cosa da imparare. Il cervello anticipa. Non so se avete già visto. Non ho portato lo schermino, ma in Canada ce l'ho. È un piccolo gioco nel quale tu devi fermare la fragola mentre passa nello schermo. E la fragola passa, a un certo punto lampeggia e tu la vedi. Schiaccia dove hai visto che ha lampeggiato. Schiacci sempre prima. La fragola, il cervello, cioè schiacci schiacci sempre dopo. Mettiamo che mi giro da voi, così è più facile. e la fragola passa là. Io schiaccio, la vedo qui, ma in realtà la fragola è là. È indietro. Il nostro cervello anticipa, interiorizza la velocità con cui la fragola va e al momento in cui il cervello interiorizza che la fragola è lì, tu la vedi là. E quindi dai sempre qualche centimetro in più. È la stessa cosa nella vita. Se tu vuoi qualcosa, quando vi capita, non so se vi capita, non mi capita spesso, ma mi capita. A un certo punto vedi una cosa che ti piace, una camicia, a me piacciono gli orologi, allora mi capita di fare follie, però non troppo follie. Però è vero che mia moglie dice cazzo, possiamo metterli sulla casa. Ok, vabbè, ma non li ho messi al polso. e quindi, non so, vedi una camicia, vedi una gonna, vedi un paio di scarpe e lì il cervello prevede, incomincia a dire ah ne hai proprio bisogno e lì ti autoconvinci e poi arrivi a casa e dici cazzo, ma ho tutte queste scarpe, cosa faccio con una scarpa in più? Ho solo due piedi, non ho mica mille. E quindi, mi capite, è la stessa cosa nella ricerca. Certe volte ti dici no, devo continuare. Allora, ancora una volta, se ti conosci super bene, puoi essere mentor di te stesso. Però anche il miglior Bill Gates ha un mentor. Ha qualcuno con cui ogni tanto cena e gli dice voglio fare questo e l'altro gli dà cose disinteressate. Non è facile avere uno che ti dice le cose disinteressate. Non può essere la tua migliore amica. No, e non può essere il tuo amico di laboratorio perché non ci deve essere conflitti. Quindi, ogni volta che hai una scelta critica da fare, è bello parlare un po' col mentor. Ma è difficilissimo trovarlo. C'è tanta gente che non ha mentor o che si sbaglia nella scelta dei mentor e che se ne rende conto. Il vostro supervisor non è necessariamente un buon mentor. Io non sono un buon mentor per i miei studenti. Posso dare consigli, però certe volte mi sbaglio. Avevo uno studente super curioso, super critico, ma non creativo. E io dicevo il dottorato ti insegnerà a essere creativo. E lui diceva sono un beta. E io dicevo puoi essere un alfa. E lui diceva ma io non ci voglio fare un dottorato. E lui dicevo ma provaci. E finalmente mi ha detto no, non lo faccio. oggi è direttore al Museo di Scienze Naturale di Parigi della conservazione delle ossa di animali preistorici trovati. Aveva fatto un lavoro sui polimeri. Non è creativo ma è super rigoroso. Quindi era un cattivo mentor. Mi progettavo io al suo posto. E invece no. dovevo essere capace di sedermi e dire ma questo è quello che vuole e avere una famiglia e tornare a vivere in Francia e vuole la vita tranquilla nell'ambiente che ha scelto. E non è un alfa. Non deve fare il dottorato. Deve fare quello che vuole fare. E invece io dicevo ma provaci a fare un dottorato qualche anno in più e sbagliavo. Mi capisce? Mi capite? Ugo un buon mentor è una persona intelligente. Non prendete uno stupido se no non vale la pena. Una persona intelligente che che si interessa al vostro futuro ma non ha interessi personali su di voi né sulle vostre finanze né sul vostra vita né sui vostri sentimenti eccetera. È uno che non ha conflitti di interesse. Io dico sempre qualcuno che non ha nulla da perdere o da guadagnare. è molto difficile trovare comunque persone così soprattutto in paesi come Italia Francia eccetera. Nel nord d'Europa è più facile perché la gente le sfere di ogni persona sono più grandi e quindi non c'è mutua relazione e dipende anche da voi o ho studenti o ho avuto studenti che il loro mentone era loro madre e loro padre e perché no? capito? Poi l'altra cosa che bisogna imparare che bisogna vedere e che in fondo non è nulla di incredibile ma è proprio da capire è devi conoscere gli altri giocatori. Quindi mettiti sempre nelle scarpe della gente che ti sta valutando. Mandi un articolo leggi il tuo articolo anche se so che è difficile dicendoti ma se io fossi reviewer cosa dico? Mandi una domanda di fondi alla regione dico per caso e dici alla regione ma chi la leggerà? Uno scienziato? Un biologo? Magari no magari uno che è stato messo lì per ragioni politiche devo scrivere a suo livello non fate fuori errori però scrivete in maniera che possa capire certe volte è semplice mettere una frase per esempio virgola e metti un esempio chiaro chiaro e la gente apprezza soprattutto quelli che devono decidere anticipa i loro movimenti e questo vuol dire giocare a dama giocare a scacchi gioca a scacchi con la gente che ti valuta con la gente con cui ti interagisci eccetera nella scienza moderna ogni cosa che conta è peer reviewer quindi c'è sempre qualcuno oggi sei tu domani sono loro oggi sei tu che fai l'interview ma domani sei tu che cerchi un lavoro e quindi sei intervistato oggi sei autore domani sei un referee oggi mandi un grand application mandi un proposal e domani sei tu che siedi su un comitato e infatti non ho mai imparato tanto a scrivere proposal come le volte che sono stato presidente o membro di comitati sono stato presidente del gruppo di nanotecnologia e nanomateria a Bruxelles per sei anni e lì ho imparato una marea su come scrivere i progetti europei poi sono stato in IH poi sono stato in Canada e questo mi aiuta ciò non vuol dire che ho un tasso di riuscita del 100% assolutamente ho sempre un tasso di riuscita del 30% quindi devo scrivere 10 per averne 3-4 questo è normale perché comunque è giusto anche che sia così non sarebbe giusto che ne scrivo 10 ne ho 10 però non vi sto dicendo che tutte le 10 sono completamente nuove però non sono neanche copiate l'una dall'altra la capacità di giudicare il tuo proprio lavoro e le abilità in maniera obiettiva non è facile certe volte rileggo progetti che ho scritto e ho detto come cazzo hanno fatto a finanziarlo e poi scrivo progetti che dedico anima e corpo per settimane e non sono finanziati e dico ma perché questo è una cosa dipende quindi non c'è una regola una cosa difficile è questa questa ho imparato tanti anni fa più la domanda è chiara più la risposta è semplice a domande chiare non puoi avere risposte difficili però le domande sono raramente chiare ed è questa una cosa ho già visto delle domande di fondi scritte con domande l'obiettivo di questo proposto è di rispondere a 5 domande domanda 1 e poi scrivi state of the art approach goal metodology expected result chance of sussex 5 linee ognuno e la domanda si legge facilissima la struttura è veramente importante e come sapete siamo tutti sottomessi a questo sistema di revisione dai coni pari si dice pari anche in italiano cioè coni quelli come voi che hanno un dottorato eccetera è come la democrazia ragazzi è molto imperfetta ma è la migliore che abbiamo nessuno è ancora capace di trovare un sistema migliore certa volta mi dico magari è bello andare a essere prof negli Emirati Arabi Uniti o nel Qatar dove vai a parlare con Sultano ho avuto un collega in Canada che il re del Marocco l'ha chiamato il re del Marocco è la settima potenza mondiale in termini di soldi e gli ha detto voglio un centro di nanotecnologie del Marocco e gli ha detto quanto hai bisogno per costruirlo e questo ha detto dammi una settimana poi è tornato e gli ha detto ho bisogno di 200 milioni di dollari subito e poi ho bisogno di un budget ricorrente di 10 milioni di dollari e lui ha detto vai fallo ha portato dei prof dal Canada ha portato associate researcher ha portato doc dal Canada dopo 7 anni per 7 anni ha fatto tutto bene dopo 7 anni il re l'ha chiamato mi ha detto è finita la mia tecnologia non mi piace più adesso è biotech quindi libera i locali ed è finito sei un laboratorio governamentale e il tuo capo è lo sceico del Qatar piuttosto che il re del Marocco eccetera ma per 7 anni puoi vivere bene cosa è il peer review e quando è usato quasi sempre giornali scientifici tutte le agenzie di fondi qualche volta anche le fondazioni e le fondazioni è per questo che vi dicevo prima nella pausa caffè non ho mai visto tanti soldi come adesso in ricerca però è difficile andare a cercarli perché bisogna avere le idee chiare e fare le buone domande non ho mai visto tante fondazioni private che non sono capaci a dare i soldi ogni mese ogni due mesi ho qualcuno che mi chiami e mi dice Diego ho soldi per questa borsa nessuno ha applicato sono solo 20.000 sono solo 5.000 sono solo 10.000 e perché la gente non applica perché la gente dice oh più facile che il mio prof mi dia la borsa di studio o è più facile applicare vuol dire sedersi scrivere per 5.000 non vale la pena e poi ho avuto studenti come Frederick lui aveva una borsa del governo di 35.000 e ogni anno andava a cercare 35.000 applicando a destra e a sinistra la sua passione era quella di cercare nel mondo e aveva trovato il gruppo degli elastomerici indiani che gli hanno dato 5.000 euro perché lui aveva detto che era interessante con il suo progetto però Frederick era una cosa particolare è uno studente che è arrivato e mi ha detto Diego è da un anno che ho studio cinese perché tra un anno c'è una conferenza a Hong Kong nella quale voglio partecipare posso mandare un abstract come vuoi dire di no a una studente così dice voglio andare a Hong Kong così voglio vedere se ho veramente imparato il cinese e in più come vuoi dirgli di no dici piuttosto te la pago di tasca mia quindi il peer review non è perfetto sono d'accordo con voi però è meglio che c'è soprattutto se fatto in maniera anonima enormemente dovrebbe però non sempre lo è good referring versus bad referring mi capita di leggere l'articolo è scritto male reject questo è stupido nessuno dove mai permettersi di fare così e un buon editore dice non lo calcolo perché almeno spiegami reggetti il mio lavoro che ho preso dei mesi a fare almeno spiegami perché scientificamente mi dici questo risultato non tiene perché è già stato pubblicato da 40 anni in questi articoli e mi li citi quindi so che nessuno ha tempo però se accetti di fare il reviewer devi farlo bene can you protect puoi proteggerti dalle cattive reviewer puoi puoi suggerire i tuoi referis puoi tu far parte dei referis qualche anno fa avevo un sacco di giornali che mi chiedevano di essere referring e a un certo punto ho detto ma chi me lo fa fare e poi ci ho pensato un attimo ho detto no devo continuare a farlo e una parte del mio tempo nella settimana deve essere riservata a fare il referi perché? perché voglio che i miei giorni i miei articoli siano ben referiti e allora devo fare il buon referis per gli altri e questo crea un sistema migliore non devo solo dire io non voglio fare il referi o io non ho mai il tempo però gli altri devono fare i buoni i referi con me no mi capite? e questa è una cosa un po' altra magari non è ancora arrivata ma è così e qui faccio fare sempre un esercizio di meditazione di Feng Shui conoscete? allora vi invito a mettervi rilassati degni niente cellulare per un attimo così aprite le mani bene aperte ok? aprite le mani bene respirate tre volte profondamente poi piano piano chiudete anche gli occhi senza addormentarvi ok? vedete? sentite che vi rilassa pensate a qualcosa di positivo il mare le vacanze non lo so adesso immaginate di avere nelle mani le palle del reviewer che vi ha rifiutato l'ultimo articolo e stringete stringete forte stringete forte 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 ci si sente meglio eh? vedete? questo è un esercizio Feng Shui che insegno sempre ai miei studenti perché è una cosa interessante e potete fare nel vostro ufficio in maniera molto rilassata è una cosa veramente interessante il bello è che molti non sapranno cosa stiamo pensando di stringere in tutto ciò sono già stato editore di giornali o di special issues e per lo stesso giornale ho già ricevuto questo uno che mi dice in una linea this paper is good and original ok però non mi dice perché non mi dice niente il secondo referee mi dice unfortunately the part that is good is not original but the part that is original is not good quindi questo per me è veramente il più famoso referee report che ho mai avuto un buon editore un buon special guest un buon special editor di special issue quando vede queste cose dice cancel cancel cancella questo e chiedi un'altra review e si allungherà un po' e dici all'autore ho difficoltà a trovare e questa è una cosa importante ancora svegli sì quindi publish or perish pubblicare vale la pena o no ci sono molte teorie sulla scomparsa dei dinosauri una di queste dice che non hanno mai pubblicato niente quindi non esistono più volete essere dei dinosauri e questo è l'idea no a parte questo io dico sempre ai miei studenti non inondiamo la letteratura con una marea di piccoli articoli insignificanti possiamo pensare di fare un buon articolo ci ho detto capisco anche che adesso ho bisogno di pochi articoli buoni ma che quando avevo 30 anni il fatto di finire il mio dottorato con 12, 13, 14 articoli mi ha dato un più nella vita e non tutti erano buoni ne avevo magari 8-9 che erano medi e anche magari 5-6 di quei 8-9 che erano piuttosto bassi cioè uno che finisce un dottorato che finisce un postdoc che ha un'azione di ricerca che pur non ci si aspetta che pubblichi solo in PNAS in Science e in Advanced Materials però non ci si aspetta che pubblichi solo due articoli di proceeding magari qualche proceeding magari qualche articolo medio eccetera però dal momento in cui siete un po' stabiliti io credo veramente che è importante di dire pubblichiamo poco e bene piuttosto che tanto e male certo che quando sei studente ogni nuovo articolo è percepito come un input importante del tuo CV questa conferenza ad esempio che facciamo settimana prossima a Roma come chair della conferenza io ho detto no, è importante che gli abstract non siano solo abstract volanti ma che siano letti che siano corretti che siano valutati che siano filtrati e quelli che sono filtrati quindi su 190 abstract accettati ne abbiamo 163 credo pubblicati ma li abbiamo pubblicati in una special issues di European Cells and Materials che è comunque 4.7 di Impact Factor quindi per uno studente che arriva è una conferenza nel quale hai una sola pagina che però conta nel tuo CV ed è un abstract peer review non è una conferenza persa è una vera linea nel tuo CV quindi la tentazione è grande di dire pubblichiamo piccoli articoli io non credo però vedete ci sono strategie come quella che ho appena raccontato che permettono di scrivere piccole cose aggiungere linee e finalmente dire ho un piccolo impatto a lungo termine la qualità è importante mi ricordo su un comitato di valutazione di Grant che c'era un professore nella Saskatchewan in Canada che pubblicava 50-60 articoli l'anno e la gente comunque si chiedeva come fa a pubblicare un articolo a settimana poi visto che oramai è semplice ti connetti in VPN con la tua università vai a telecaricare gli abstract degli articoli e vedi che faceva un articolo su 6 casi poi faceva un articolo su 9 casi poi faceva un articolo su 11 casi poi faceva un articolo su 13 casi ogni volta aggiungeva qualche allora gli si è detto nel comitato aspetti la fine dell'anno e faccia subito l'articolo su 37 casi invece ogni mese di fare un articolo ogni volta che aveva due pazienti in più aggiungeva ma in fondo era sempre lo stesso articolo questo non è etico mi capite? quindi quello che sto dicendo è che personalmente quando come ieri vi dicevo Bob Langer 370 articoli in 20 anni un articolo ogni due settimane 370 brevetti un brevetto ogni due settimane io mi chiedo sulla sua capacità a seguire quello che il suo gruppo fa e quindi è ancora un piccolo discorso etico io credo che l'impatto dei vostri articoli quindi ad esempio il fattore H anche se non... sapete il fattore H cos'è? quante volte... quanti articoli hai che sono stati pubblicati? no il numero H è il numero H di articoli che sono stati pubblicati H volte non è facile ho colleghi di 70 anni come Jean-Jacques Pirot alla facoltà di Namur che ha un fattore H di 55 e ha pubblicato 400 articoli cioè ha 55 articoli citati almeno 55 volte è un grande fattore H un giovane ha un fattore H di 8 10 già non è male io credo che se prendi il fattore H e lo dividi per gli anni in cui sei stato nella ricerca quindi gli anni che hai pubblicato e questo fattore è più grande di 1 1.5 2 sei molto buon livello cioè ci sono piccole le chiamano adesso le biometrie non deve essere una mania però è importante quando uno mi dice e mi manda una lettera ad esempio mo ti do la parola quando uno mi dice ah questa conferenza è organizzata da questo professore è un grande del suo campo oggi non mi interessa Medline Easy Web of Science Fattore H quanti articoli ha? ha pubblicato 22 articoli in 35 anni non è un grande del suo campo è una grande persona come dicevo prima ma come scienza? no gli articoli sono mediocri non vuol dire che deve avere 400 ma deve averne un numero corretto un numero corretto per me nella ricerca è qualche articolo l'anno in media non uno e questo è personale poi capisco che ci sono campi diversi io parlo più del nostro campo ci sono campi dove quando metti un articolo all'anno è buono e quindi e ci sono campi dove non metti articoli e nelle facoltà di letteratura e di scienze umane non puoi pubblicare col nome del tuo professore perché allora la paternità è sua non tua devi pubblicare da solo e quindi questo poi mi capite? cioè ogni campo ha il suo le sue cose era questo? sì è praticamente era giusto il dire ok l'H index va bene ma spesso andrebbe anche confrontato con l'H index medio nel campo in cui assolutamente perché se sei un medico chirurgo è molto più facile che tu abbia un H index quanti ospedali ci sono nel mondo e quanti medici ci sono su terra molti più medici che scienziati è normale che New England Journal of Medicine abbia un fattore di impatto di 29 in tutti gli ospedali ce ne sono almeno 10-12 copie che circolano anche nelle sale di attesa è ovvio che lo leggi di più lo citi di più eccetera c'è più gente che lo cita se lavori in fisica astrofisica sei magari 2.000 persone non lo so ma magari sei 2.000 5.000 persone nel mondo che leggono le cose di astrofisica quindi è ovvio che avere un fattore H di 75 non è mica facile perché non sei citato così tanto qualche piccola tips qualche piccolo aiuto per voi scrivete sempre quando pubblicate scrivete sempre per gli esperti ma anche siate larghi siate volgarizzatori dico sempre ai miei studenti un'introduzione cortissima ma che parte larghissima è geniale se sei capace nelle prime 5 linee di suscitare l'interesse nel lettore e il lettore è qualsiasi persona che ha una laurea è a tuo vantaggio i referi saranno eccitati crea una bella storia io dico sempre ai miei studenti prima di fare prima di scrivere un articolo si pensa prima di pensare si legge e dopo aver letto si scrive prima pensi cosa voglio fare qual è il problema scrivo l'introduzione scrivo il materiale metodi e al limite dico dimmi quali sono gli otto prima di fare gli esperimenti dimmi quali sono gli otto risultati che sogni di avere in questo articolo e che faranno il tuo articolo il titolo qual è studio dell'effetto della pressione sul trasferimento membranare del colesterolo nella parete dell'arteria cosa vuoi avere ha una patologia dell'arteria ok poi cosa vuoi avere ha un profilo di concentrazione ok magari prima ci mettiamo un organigramma che dice come il tuo articolo è impostato poi ci mettiamo uno schema sperimentale di quello che hai usato ok siamo già a tre figure in un articolo non ne metti 27 ne metti 8 7, 8, 9 meno 6 poi cosa hai bisogno hai bisogno di qualche foto hai bisogno di una ah spettroscopia infrarosso fatta punto per punto nella parete bene ok così sai allora nel materiale metodi hai messo l'infrarosso no l'ho dimenticato poi cosa vuoi fare ha proprietà meccaniche per vedere che il trasferimento membranare di fosfolipidi cambi le proprietà meccaniche ok proprietà meccaniche le hai scritte no non le hai scritte ok e non ne ho ancora fatto un esperimento e so già le 8 figure che devo avere nell'articolo questo ti aiuta per scrivere la bella storia e la bella storia incomincia sempre la stessa parola c'era una volta qualcosa capito e questa è la migliore cosa per incominciare hai capito c'era una volta la terosclerosi una persona ogni 6 minuti muore nel mondo a causa della terosclerosi costituita da lipidi che si infiltrano nella parete il nostro lavoro tutti hanno lavorato su calcificazioni ma nessuno ha mai seguito il fosfolipido nella parete dell'arteria il nostro lavoro visa a colmare questa lacuna finito l'introduzione è scritta ragazzi materiali metodi l'istologia è stata fatta nell'arteria per capire le cose poi abbiamo fatto una simulazione poi abbiamo fatto un montaggio sperimentale poi abbiamo fatto la spettoscopia infrarosso per questo poi abbiamo fatto la proprietà meccaniche per quello risultato e non ho ancora fatto un esperimento la maggior parte dei lettori guarda il titolo guarda l'abstract leggiuzza l'introduzione in diagonale guarda la conclusione non sempre in questo ordine l'altro uno di voi l'altro giorno mi ha detto fammi vedere è dato all'ultima pagina dico ma perché aveva l'ultima e gli dici incomincia sempre dalla fine ok vedete quindi e questo è importante queste sono le parti importanti il materiale e i metodi non è la prima cosa che vai a vedere quindi queste parti devono essere molto ben fatte se le fai male ti uccidi te stesso struttura questi elementi in modo da attirare il lettore è veramente un'azione di di seduzione lo devi sedurre lo devi prendere dal titolo portarlo nell'abstratta fargli capire che è eccitante vuole vuole sapere la fine digli la fine non scrivere in maniera lunga complessa è complicato bisogna capire anche che l'inglese di base scientifico è scritto una frase un punto una freccia una mela una frase un punto da sottolineare spesso uno dice ma che cazzo me lo fa fare di investire del tempo a leggere questo abstract è scritto male dalla seconda linea piena di errori perché e basta dice allora è finito seduzione seduzione è la parola giusta e poi come giudichi come giudicano il tuo impatto scientifico il primo è sempre per citazioni questo è importante la gente si pavoneggia dicendo ah i miei lavori sono digitati mille volte sono digitati due mila diciotto mila ventisettemila e quindi dicono più citazioni normalmente mettono anche in parentesi senza le self-citation e questo è importante però quante volte vi hanno invitato a conferenze questo è importante questo è un simbolo che una volta due volte cinque volte può essere un amico che ti invita spesso hai bisogno di avere un legame con qualcuno qualcuno ti deve conoscere però più volte sei invitato in generale conferenze seminari ed altro quanto hai servito nei committi di revisione di impatto questo è importante lavori per giornali eccetera adesso vi do un punto molto personale se per caso un giorno qualcuno vi manda un'email e vi dice buongiorno sono l'editore di Nature Materials ti chiedo se sei capace di fare la revisione di questo articolo questa è un'occasione unica che vi si presenta e ho un sacco di colleghi che la snobbano che gli dicono sì lo faccio e poi non lo fanno mai l'editore di Nature Materials non è un robot è un uomo come voi e me che investe tempo e energie assegnando reviewers se tu lo aiuti se tu investi in quello che lui ti chiede un giorno secondo me ti ridarrà qualcosa quindi prima bisogna dare e un giorno magari chiedere allora stabilire una relazione privilegiata con un editore di review importanti ma anche di base anche se Journal of Biomateria Applied Biomateria Simpat Factor 2 e sei postdoc è importante è meglio non dormire una notte ma rispondere velocemente all'editore e dargli una review più intelligente articolata documentata con referenze fedele a quello che l'autore scrive e poi mettergli una piccola parentesi dire commento riservato all'editore secondo me questo articolo non è buono però non sta a me giudicare rigettare o no scelga lei in funzione anche degli altri reviewer se tu ti comporti in una maniera professionale state sicuri che ti rimanderà articoli un giorno come mi capita quando sono assegnato di essere l'editore di articoli aprirà un file nel quale il vostro nome ci sarà e si dirà cazzo Andrea Gentile l'università perduta nel Salento ok una brava persona però non dirà accettato subito però quando cliccherà perché è così che funziona scelta del reviewer io quando clicco scelta del reviewer so che ho 20 reviewer su terra che sono dei mastini napoletani so che non c'è mai nulla che le piace so che sono loro l'unica cosa che le piace è quello che fanno loro peggio di un pastore tedesco affamato e so che allora quando l'autore è una cosa normale sono più propenso ad assegnare il pastore tedesco affamato a uno che in fondo dico ma vediamo in francese c'è una bella cosa vogliono combien d'argenti li ha dal petit cochon vediamo quanti soldi ci sono nel salvadanaio lui è sempre duro con gli altri ma vediamo quanto c'è di scienza nel suo articolo gli do l'articolo a quattro mastini napoletani e loro so che mi rispondono veloci ma saranno durissimi adesso Antonio Gentile mi ha sempre aiutato ah c'è anche quelle volte che mi ha fatto la review in una notte perché dovevo rispondere veloce se no perdevo la faccia mi aiuta nel mio giornale mi dà una mano non mi sto dicendo che è una garanzia però se io fossi l'editore dico cazzo no Andrea Gentile mi ha aiutato una marea di volte quindi dai il mastino no dai il mastino lo riserva per quell'altro e gli diamo Diego e gli diamo l'altro che sono più balanced non vuol dire che sarà accettato l'articolo ma questo è il potere di azione cioè non chiedete agli altri quello che voi non siete pronti a fare e vedete è perché vi ho detto all'inizio non sono qui per insegnarvi nulla sono qui per suggerirvi o per sensibilizzarvi a cose che sapete già tutti ma in realtà la nostra vita va veloce e non ci pensiamo mai mi arriva anche a me che mi mandano delle review e io dico sì e poi dopo un mese mi scrivono oh non me l'ha ancora mandata beh con la notte lì non dorme faccio la review perché dico non posso giocare col suo tempo mi capite? quindi questo è un piccolo tip poi ci sono i cv i brevetti anche il livello di finanziamento è un indice dell'impatto scientifico e purtroppo qui l'avete già capito piove sempre sul bagnato più hai fondi più è facile averli e questo è terribile ma è così quando la gente vede che hai fondi dice cazzo la ricerca è di impatto allora dagliene e certe volte dici no ma non darla a me darla all'altro e invece però non si dice mai no se la tua ricerca diventa abbastanza interessante da raggiungere un certo livello di audience allora ti chiedono di dare dei tocchi popolari o articoli sui giornali eccetera questo in generale è una buona evidenza di impatto attenti perché nel mese di luglio c'è sempre qualcuno che conoscendo il giornalista o l'altro si fa mettere nel periodo delle vacanze sui giornali no quello non è un segno di impatto quello è solo un segno di conoscenza e in fondo c'è sempre io vedo sempre ogni anno luglio agosto c'è ah ho cuore artificiale risolto ah cervello artificiale perché cercano le cose di grande impatto per la gente che va in vacanza così compra e poi ci sono le conferenze e i miei da non sottovalutare e ci sono tre ragioni più una la prima è per presentare il lavoro questo è importante se fate un lavoro lo tenete nascosto nel vostro cantinino porta chiusa luce spenta non è già non è ricerca è in più ci ho detto ad esempio questa conferenza di Roma ero sorpreso avevamo deciso di dare solo orali e c'è un sacco di gente che scrive no io voglio poster e non è male il poster può essere anche molto interessante però ti si dà la possibilità di andare orale vai orale l'impatto è un po' più grande a condizioni che c'è un po' di gente nella sala seconda ragione è per imparare dagli altri sì da cosa è derivata la scelta? non capisco perché uno che avrebbe la possibilità di fare l'oral prende il poster ah perché la gente dice l'inglese non ce l'ho bene oppure sono timido non ho voglia di parlare in pubblico ma è vero che secondo me ci sono due tipi di conferenze ci sono le conferenze più come summer school come ad esempio biodegradable metals organizzata in Indonesia al mese scorso quella è una conferenza dove prendiamo 100-150 persone nel mondo le portiamo in un'isola perduta dove c'è solo del snorkeling dell'attività subacqua o poster o qualche orale allora lì è semplice la mattina fai gli orali il pomeriggio fai i poster ma i poster sono veramente seri ti metti lì e ognuno passa e ti dà le idee quindi progredisci come persona alla fine avrei fatto 30 ore di discussione intorno al tuo poster torni a casa che puoi scrivere pagine e pagine di idee queste però sono conferenze piuttosto rare la maggior parte delle conferenze vai e presenti quello che hai hai 15-20 minuti per presentare questa conferenza settimana prossima ad esempio come la maggior parte delle conferenze è una conferenza che si dice così bene a professori che a studenti e cerchiamo di fare un misto però tenendo un certo livello quindi ISIB ISIB se fate www.isib.org international symposium surfaces and interfaces for biomaterial issib.org sui vostri cellulari viene fuori subito incomincia martedì con detutoria e finisce sabato e quindi c'è gente che dice no io orale non mi sento capace ok rispettiamo però è una chance di poter stimolare la gente nulla viete di portare un poster di attaccarlo come last minute poster e poi hai una base per discussione con la gente va bene la seconda è di imparare dagli altri anche se più sei giovane più andare a una conferenza vuol dire capire poco o niente però la conferenza ti apre gli occhi se sei attento ti apre gli occhi perché c'è sempre quello che utilizza la tecnica in un mondo che tu non avresti mai pensato ma è che ti porta una freccia nella testa e poi c'è una cosa importante networking molta gente lo sottovaluta i vostri amici oggi anche come studenti partecipate alla student night della conferenza visitare Roma o visitare il posto dove vai con gli altri studenti e poi mandi qualche email e poi hai più amici e poi discuti oggi sono solo amici ma non preoccupatevi un giorno saranno professori saranno gente che lavora per le funding agency saranno editori di giornali e quando avrete 45 anni sarà geniale perché hai un network e quel network lì non puoi farlo stando a casa a guardare la televisione sono un po' diretto ma è così e poi c'è una quarta ragione qual è la quarta ragione di andare a una conferenza e in biomateriali siamo fortunati fortunati normalmente le conferenze non si fanno in posti trucci si fanno in posti simpatici Parigi, Roma in agosto ero Hawaii in fine agosto in inizio agosto ero Hawaii fine agosto ero in Indonesia a aprile ero in Florida in Australia ci vado poco però Parigi spesso Roma eccetera quindi hai occasione di viaggiare su isolette sperdute su cose e quindi sono cose interessanti quello che dico sempre ai miei studenti è bisogna essere intelligenti se vai alla conferenza ho detto ai miei ho sei studenti che partono sabato per venire a Roma una settimana dico ragazzi venite a Roma ma da lunedì per la preparazione a sabato non c'è vacanza siete per la conferenza brutto cattivo simpatico si parla mi interessa non mi interessa non c'è Roma da visitare volete tre giorni alla fine tre giorni all'inizio prendetevi l'aereo è pagato però se venite alla conferenza ad ogni bisogna essere intelligenti anche lì ad ogni pasto dovete mangiare con qualcuno di diverso perché quello è networking ad ogni momento della conferenza dovete essere attenti e parlare con la gente dovete tornare a casa più forti a livello comunicazione che abbiamo già parlato a livello conoscenza a livello criticismo eccetera quindi ci sono 15 modi per farsi rifiutare qualcosa molto facile innanzitutto pubblicare un articolo troppo ricco questa è una cosa che mi allucina sempre quando vedo articoli da 35 40 pagine 15 figure dico ma questo non ha mai letto un articolo oggi gli articoli sono 4 5 6 pagine perché ce ne sono talmente che se devo mettermi a leggere un articolo mi piace certe volte leggere le review c'è un giornale che non mi ricordo esattamente ma pubblica solo review è un giornale molto quotato in materiale pubblica due review ad ogni edizione in due mesi ogni review è 45 pagine è quasi un libro pochi lo leggono includere un sacco di dettagli e questo è triste ma la gente non interessa nei dettagli e poi c'è sempre quel discorso di dire dite sempre la verità ma magari mai tutta in un articolo se fate una presentazione orale incominciate la presentazione parlando proprio piano piano o parlando da soli quindi la comunicazione non si improvvisa rispettate sempre il tempo in una comunicazione questo è essenziale rispettare il tempo perché prendere più tempo vuol dire giocare con la vita degli altri e questo è grand mal visto non dite mai perché fate la ricerca questo è un errore che vedo spesso in Italia abbiamo fatto la ricerca perché pensavamo che no dite che cosa non dite il perché il perché è il vostro piccolo segreto se ve lo chiedono nelle cose glielo dite ma se no dite perché l'avete fatto e la gente non vuol sapere il perché vuol sapere il come parlate sempre pensando bene chi avete davanti perché se avete davanti degli studenti bisogna tenerlo a livello studenti non arrivate mai davanti a un audience e dite ah ma io ho imparato questo gli devo vomitare quello che ho preparato no è meglio saltare delle slide ma fare qualcosa di interessante che la gente segue stabilite un contatto con l'audience lo vedete negli occhi lo vedete nell'attitudine verbale se tutti prendono il cellulare e incominciano a testare prendete anche voi il cellulare e testate io certe volte lo faccio mettiamoci d'accordo cellulari spendi o cellulari accisi quindi e ce ne sono una marea d'altri ci sono tanti articoli su come essere efficaci volevo rivenire un momentino sul networking il networking è veramente importante perché il networking vi insegnerà un giorno vi faciliterà la vita a trovare un lavoro a sviluppare collaborazioni a reclutare buona gente e la gente non dimenticate la gente che incontrate alle conferenze sono loro che review i vostri articoli e una volta che li conoscete potete suggerirli come external reviewer e questo è interessante e un giorno vi chiederanno a voi di valutare loro questo è sicuro non dimenticatelo mai quindi conoscerli personalmente aiuta mettono una faccia o nel 2007 ho preparato il dovete sapere che il congresso mondiale di biomateriali si organizza nove anni prima che accada quindi nel 2007 ogni paese del mondo è stato sollecitato a presentare una proposta per organizzare il congresso mondiale di biomateriali del 2016 e io ho detto a nome del Canada e della società canadesi biomateriali all'epoca ero presidente ho detto il Canada dovrebbe presentare candidatura quindi mi sono informato su come si faceva e ho presentato candidatura siamo arrivati con la Corea siamo arrivati con il Giappone gli Stati Uniti e ci hanno invitato nel 2008 a fare una presentazione al congresso mondiale che è tenuto ogni quattro anni e che si teneva Amsterdam e abbiamo vinto il BID quindi il 2016 è il Canada nel 2008 era ufficiale fino al 2012 abbiamo dovuto abbiamo cominciato ad organizzare la cosa in silenzio perché il 2012 il congresso mondiale era a Chengdu in Cina e quindi non si poteva parlare prima di lì alla fine del congresso in Cina abbiamo mandato la diapositiva che vi ho presentato il primo giorno riservate le date 18-22 maggio 2016 dove sarete spero che sarete a Montreal per il congresso mondiale di due materiali gli europei diversi colleghi europei anche italiani mi chiesero e perché hai fatto tutto sto lavoro? a cosa serve? ma sei scemo? ma hai tempo da perdere? ah io mai eh io non avrei mai organizzato dico peccato perché tu avresti avuto Roma e non Montreal o Milano o Parigi o Berlino o Monaco o Vienna o Madrid o Lisbona cazzo sono un po' più interessanti che Montreal ah no no io non ho emesso il lavoro perché secondo voi vale la pena di organizzare un congresso mondiale che vi prenderà dei mesi a organizzare questo è sicuro perché vale la pena di sbattersi un po' per gli altri? perché avrà il mondo lì nel 2016 primo hai il mondo lì però non lavoro per turismo Montreal quindi se vogliamo essere molto pratici pratici io come Diego Mantovani cosa ci ricavo da un congresso mondiale? niente non ci ricavo soldi perché ho organizzato a nome della mia società cosa ci ricavo? qualche idea? Ugo? fama prestigio forse ma notorietà tutti conosceranno Diego Mantovani Paul Santerra quattro persone in Canada organizzano per noi e da qualche parte è quello che vi dicevo prima give prima di take cioè la gente cerchiamo di fare il meglio che possiamo cerchiamo di creare un'esperienza un congresso che la gente ricorda questo è il mio motto personale io non voglio un congresso dove la gente va al congresso no voglio creare un'esperienza settimana prossima a Roma sarà un'esperienza perché voglio portarli in posti atipici voglio portare la gente che viene in zone turistiche non normali e voglio sottometterle a un range di conferenze che non sono classiche quindi ci sono dei tutorial eccetera però l'idea è put the point on a map Montreal la gente saprà dov'è nel mondo e questa è una cosa interessante mi capite? quindi conoscere la gente personalmente è importante però una volta che scegliete la carriera scientifica e sapete se siete alfa, beta o alfa primo o altro e non c'è solo ho tantissimi amici che non sono professori e fanno carriere super scientifiche giornalismo scientifico ne ho che scrivono cose volgarizzate di ricerca awareness a grande pubblico popular science cose così ho scritto o fanno emissioni ne ho qualcuno che è diventato editore ci sono ad esempio questi giornali come Wiley, VCH dove l'editore non è un professore a me piace molto perché un professore ha sempre conflitti di interesse ma un editore che ha un dottorato ma che non è professore può giudicare onestamente e ha più tempo da dedicare al giornale quindi ad esempio ho amici tra l'altro una pugliese Marta qualcosa adesso mi spiace ma come sempre non viene lei è editore di macromolecola bioscience e di altri giornali e quindi è una buona relazione potete diventare, lavorare per agenzie di finanziamento a Bruxelles in Italia nel mondo reclutano puoi essere analista finanziario ne ho alcuni che sono diventati analisti finanziari per banche per gruppi di assicurazioni eccetera puoi fare come Einstein diventare fare brevetti aiutare la gente a fare brevetti se sei curioso se ti piace il lavoro individuale è quello ed è un lavoro dove ogni giorno è davanti a te qualcosa di diverso però è un lavoro che personalmente troverai monotono però ti permette di pensare puoi fare il consulente puoi fare scientifico advisor del primo ministro ad esempio Obama ha 5-6 persone che sono scientific advisor gente che gli dice a livello scientifico dove la nazione sarà tra qualche anno boh, ce ne sono 5-6 in tutta America però ci sono puoi diventare professore in un college in un liceo o in altro se ti piace l'insegnamento e questa potrebbe essere una cosa interessante e ho uno studente che è diventato anche clown quindi è veramente tutto possibile ok in generale potremmo definire questo take home message questa è la prima cosa che vi sento veramente di dire be patient siate pazienti oggi quello che vedo è che tutti vogliono tutto subito e questo è difficile perché comunque quello che vi dicevo l'altro giorno se vuoi una carriera scientifica la prima cosa da fare è dimostrate al mondo che sei uno scientifico sei uno scienziato sei un ricercatore quindi pubblica 40, 50, 60 articoli in qualche anno devi farlo giorno e notte se non lo fai è come dire che sei un autista ma non hai la patente sei un pilota ma non hai il brevetto di pilota di aereo dici sì posso farlo perché ho fatto un dottorato o un pezzo di carta ma il pezzo di carta no ci sono un sacco che hanno dottorati no se sei uno scienziato se sei un ricercatore dimostra lo pubblica fai ricerca e questo per me è il primo cos'è un'altra cosa che è un'altra cosa che ho amici in francia che da cinque anni che mi dico cazzo cinque articoli geniali da pubblicare dico ma sono pubblicati ci sto lavorando vedi perdi tempo in cinque anni dovresti averne pubblicati almeno 20 stai ancora pensando ai primi cinque eh sì ma ci vuole tempo la nostra struttura è difficile no l'introduzione il materiale i metodi la discussione la conclusione puoi casi scrivere senza aver fatto esperimenti no è che non hai letto quest'articolo di Giorgio Whiteside l'articolo si scrive prima di fare gli esperimenti e questo è importante e se volete la referenza mandate non ce l'ho nel mio computer secondo mai aver paura di prendere rischi e di innovare innovare vuol dire di dire no quello che fanno gli altri mi piace ma si può fare di più trattate i vostri collaboratori studenti e pari con molto rispetto questo è importante e vi racconto un esempio per questa conferenza di Roma qualche mese fa c'è uno studente che mi scrive io voglio assolutamente venire alla conferenza ma sono in ritardo con l'Austrad per favore fatelo review e facciamo review e fa tutto deve fare delle correzioni sì per favore pubblicatelo a una special issue è veramente importante per me è essenziale ok 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 qualche settimana dopo mi scrive ah ho deciso di non venire e io gli rispondo cazzo ti ringrazio ma la prossima volta pensaggi prima perché ci hai fatto lavorare tutti di corsa il suo professore mi risponde e mi dice ma lei è stato insultante col mio studente dico no è solo studente che è stato stronzo con noi perché comunque mi scusi ci ha fatto lavorare tutti tre reviewer in estremis ha corretto tre reviewer per rileggere la special issue l'ha pubblicato in estremis tutto in estremis e poi dice no abbiamo questo capito per me questo non è rispetto perché il rispetto è pensaci vieni allora chiedi non vieni allora non farci lavorare per niente siamo tutti volontari trattate con rispetto quali sotto di voi questo è importante certe volte non so qui a Lecce ma mi è capitato in Italia vedere professori baroni che trattano molto questo non è normale non è normale non dovete accettarlo oggi la violenza coniugale non va accettata e la violenza laboratoria non va accettata se non vi trattano con rispetto ci sono centinaia di laboratori nel mondo che vi tratterebbero con rispetto abbiate il coraggio prendi un biglietto e parti questo è essenziale siate supportive aiutate gli altri e specialmente durante i periodi duri questo è importante il me myself and I non è la ricerca il buon mondo c'è qualcuno che riesce ci ho detto celebrate i successi questo cioè non si può sempre stare se ne parlava ieri con uno dei voi non puoi stare sempre sotto pressione però sì certe volte metto i miei studenti sotto pressione perché abbiamo cose urgenti da fare eccetera però alla fine bisogna avere il coraggio di dire ci ritroviamo tutti andiamo a cena e facciamo una buona serata io porto il vino per tutti e vi ringrazio di aver accettato la pressione per qualche settimana o qualche mese ma è finita possiamo ritornare a livello e poi non è mai finita perché ricomincia ma comunque è così io trovo è talmente più semplice e motivante lavorare con gente positiva entusiasta piuttosto che con gente che vede solo i problemi io ho due tipi di collaboratori i problem creators e i problem solver i problem creators sono quelli che ti siedi e dici ma guarda dobbiamo lavorare insieme perché ci piacciamo ok lavoriamo insieme e dico ah cosa pensi di questo ah no questo è troppo difficile sarà durissimo madonna non saremo mai capati vabbè cosa pensi di quest'altro oh sarà ancora più duro di quello di prima oh sarà durissimo cazzo dico ok cosa facciamo dimmi tu è tutto sarà duro e dico ma cosa facciamo se tutto è così duro magari facciamo è così bello trovarsi con gente al limite io sono del tipo sono più sul positivo quindi al limite è un po' pazza che dici ma buttiamo ci vedremo se la fiducia c'è e un minimo di fondi ci sono buttiamoci vedremo io sono più del tipo così però se siamo capaci di pianificare è meglio ma magari accettiamo qualche mese di buttiamoci vedremo e tra qualche mese ci si ritroverà a pianificare quindi io trovo che essere entusiasti positivi è molto più rewarding che essere negativi e non entusiasti investite tempo ed energia a fare altre cose che la ricerca questa è una cosa che credo che in Italia non è molto fatta è essenziale organizzare giornate con il gruppo di ricerca su altre cose ad esempio noi andiamo a pedalare per la fondazione dei malati del cuore canadese è una piccola attività ma fa capire e fa incontrare malati di cuore ai miei studenti e questa è una cosa interessante perché la gente capisce cosa vuol dire essere malato di cuore o ad esempio fare attività benevolato o altro si dice che menzano incorpore sano quindi praticate lo sport e io non lo faccio spesso continuate ad imparare e fate cose nuove questo è importante questo credo che nel campo della ricerca non bisognerebbe mai dire ho imparato no c'è sempre un sacco da imparare in ogni campo io credo che mantenere assoluta integrità è una cosa super importante questo è veramente essenziale aiutate i giovani a trovare il loro posto a renderli soddisfatti di quello che fanno perché se create opportunità per loro il mondo sarà migliore e voi vivrete in un mondo migliore e questa è una cosa importante non rendete le cose difficili ai giovani questo mi si è piaciuto dirlo con degli anziani nella sala spesso si dice la ricerca è dura ma non è vero siate ottimisti la ricerca è geniale trovate un lavoro dove vi pagano per pensare vi pagano per viaggiare mi pagano per incontrare ogni mese 50 60 persone nuove che sognano ma dove l'ho trovato un lavoro così c'è gente che lavora in miniera quindi non è vero che è così duro fate quello che vi piace lavorate duro ma divertitevi il divertimento deve esserci se non c'è divertimento non lavorate fate altro ispirate ispirate mamma ispirate papà ispirate i fratelli le sorelle gli amici i nonni gli amanti ispirate tutti ma ispirate e questo è essenziale perché la ricerca non è solo voi se la ricerca la tenete per voi nessuno crescerà la ricerca è educazione è progresso e quindi ispirate e trovate un coniuge un partner che vi sopporti perché ha bisogno avete bisogno perché la ricerca è passione e la passione è tempo e il tempo sono energie quindi spesso è arrivata a casa e siete stati gentili con tutti e poi decidete che a un certo punto non siete più gentili con nessuno e avete bisogno solo di 15 minuti da solo e il partner ha solo voglia di stare con voi e tu dici cazzo ma non adesso è invece adesso allora dovete trovare qualcuno che sia supportive e io in questo sono stato relativamente fortunato anche se ogni tanto ha le sue cose a me piace molto dire Leonardo da Vinci l'ho messo in italiano apposta tristo è quel discepolo che non avanza il maestro suo e questo è geniale quindi mi fanno ridere quei professori che non vogliono che gli studenti diventano più celebri di loro il mio sogno è che tutti i miei studenti siano plenari a congressi in cui io sono solo chi nota e questo sarebbe geniale perché vuol dire che gli studenti hanno la visione e ve ne dico una che io l'ho vista recentemente in quel congresso in Indonesia incomincio a vedere gli studenti dei miei ex studenti finire dai dottorati e presentare le presentazioni e ritrovo l'impostazione che avevo dato ai miei studenti non ho figli ma credo che è una cosa interessante questa perché vedi che in fondo è logico quello che insegni e questo è molto rewarding ripagante eccetera e questo credo è una buona cosa Nelson Mandela diceva how do you inspire your team to do their best PNR diceva by example I have always tough to lead by example e Nelson Mandela rispondeva well that is right this is exactly right but I ought to get them to be better than they think they can be e questo è molto difficile la più grosso limite che ho incontrato nella mia carriera è vedere uno studente che può andare più lontano ma per una serie di ragioni certe volte religiose certe volte familiari no è limitato cioè si autolimita dici cazzo questo è un razzo questo può andare sulla luna e lui dice sapete il saggio cinese no? quando il saggio indica la luna l'imbecille guarda al dito e tu dici cazzo perché ti limiti al dito puoi andare sulla luna amico mio e lui dice no perché ho già fatto abbastanza e questo per me è abbastanza triste però è così ed è bisogno accettarlo non ho ricette per il successo ve l'ho già detto il mio non pensate che sia facile perché capisco che certe volte uno può dire ma l'università la conosco stai dentro ti arrabatti un po' alla fine ti confondi con la pittura dei muri non ti vedono più e credono che oramai fai parte dei muri quindi un giorno avrai il tuo nome su un ufficio ecco questo per me è il più triste che possa capitare se avete mai pensato questo una volta nella vita pagate un obiettivo d'aereo è andata all'estero vedete altre cose questo no non fatelo perché questo vi renderà infelici credo non ci sono buone idee ma il lavoro duro aiuta questo lo dico sempre lo ripeto l'ultima volta 50-60 artigiani nei primi 5-10 anni di ricerca dovete farli se non li fate se noi li avete ancora fatti fateli avete ancora tempo siete tutti giovanissimi comunque questo non sarà necessario per avanzare nella carriera si dice anche che la fortuna aiuta gli audaci quindi conosci di te stesso pianifica conosci gli altri gioca a dama gioca a scacchi queste sono le tre cose importanti vi ringrazio buona fortuna a me mi conoscete se volete conoscere Federico potete mandargli un email e vi risponderà perché è un po' pazzo a differenza di me quando faccio questo corso di tre ore ma con lui faccio più il corso lungo di 15 ore in ogni slide entriamo più o meno per un'ora e lui è proprio di destra e io sono più a sinistra io ho una visione della ricerca leggermente sociale cioè io accetto che in un dipartimento di 20 prof ce ne sono 3-4 che fanno poco 3-4 che fanno tanto e 10-12 che se la arrabattono che più o meno galleggiano lui dice no bisogna tagliare la testa a tutti dobbiamo avere su 20 dobbiamo averne 20 bravissimi e chi non è bravo fuori a pedate lui è proprio così e quindi ha un carattere diverso una personalità diversa e quando siamo insieme a fare questo è veramente credo ancora più interessante perché lui è proprio molto sharp molto diretto e dice no non potete fare la ricerca con i mezzi termini e invece io accetto ci sono ci sono campi nei quali non è facile pubblicare in Pnagli in Nature Materials cioè non è evidente che tutti pubblicano lì lui dice se non pubblichi lì sei morto e quindi non vale niente quindi è proprio a destra completa quindi è un pochino più l'ultima cosa importante veramente è il mentor i 15 minuti che abbiamo speso parlando di mentor è una cosa importante in Italia non ho mai sentito parlare di mentor quando io ero studente non so se qualcuno ve ne ha parlato prima però il mentor è veramente una figura nella quale io credo perché avete bisogno di qualcuno che vi dice quanto blu è il cielo o è solo perché avete occhiali da sole blu che lo vedete blu e alla fine non dimenticatevi mai di divertirsi perché questo credo è la cosa più importante e la ricerca lo permette quindi vale veramente la pena allora al limite metto sempre una piccola foto del Canada vedete questo è la provincia nella quale stiamo quindi più o meno 7000 chilometri con Lecce che è qui questi sono tutti i piccoli paesini Quebec Montreal qui c'è New York qui c'è Boston quindi anzi qui credo Boston qui New York quindi siamo veramente vicini legati quotidianamente con Chicago che è qua con Philadelphia con New York con Boston eccetera Montreal è un'isoletta Quebec non è un'isola e questo è un po' l'inverno quindi qualche metro di neve questo è una sola notte un po' di neve che scende e però viviamo e non ci dispiace più di tanto quindi ok credo che abbiamo avuto abbastanza e credo che ci siamo quindi adesso take the chance prendete le vostre chance e lanciatevi credo che avete tutti buone idee e quindi il futuro non potrà che essere brillante e sono abbastanza convinto se avete domande mi fa piacere se no sapete dove trovarmi non sento nessuna domanda se sono stato un po' provocatorio non l'ho fatto per dispetto ma l'ho fatto per far cadere le pere dall'albero scuoterci va bene allora vi ringrazio siamo un po' in ritardo quindi mezzogiorno e mezza buona continuazione nei vostri studi nei vostri lavori e sapete più o meno dove trovarmi va bene grazie per aver seguito soprattutto gli affezionati grazie per aver seguito tutte le nove ore che finalmente devono essere otto state nove perché ci piace e anche per le cenette le cose belle ho un gran bel ricordo di Lecce e di voi che ci siete grazie a te Diego io penso che sarei stata qui altre 15 ore solo oggi ma continuare e una cosa importante che volevo dire a chi è qui e a chi ci segue in streaming è che anche se oggi siamo pochi non lo so siamo sei possiamo dirlo altri sei e altri sei quello che abbiamo imparato noi oggi qui quindi è fondamentale la comunicazione e anche il dirlo a chi pensiamo possa essere utile sentirselo dire quindi portare questa lezione di oggi al resto dell'università o alle persone che la possono sfruttare devo ringraziare oltre al professor Mantovani chiaramente chi ha permesso di essere qui oggi quindi Andrea grazie a te grazie a Laboratori dal Basso grazie a tutta l'università del Salento Arti Regione Puglia e alle nostre piccole associazioni Biobank The Cube MRS anche quelle più grandi MRS e grazie anche agli operatori che sono stati con noi tutto il tempo forse sarà utile anche per loro qualcosa e vi ringrazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti